Proseguono in tutta la Versilia i servizi straordinari di controllo del territorio concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al servizio, coordinato dal Commissariato di Viareggio, hanno partecipato equipaggi della Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l'ausilio dei reparti speciali della Polizia, tra cui Reparto Volo di Firenze. Le forze dell'Ordine hanno effettuato controlli a tappeto in diversi bar, piazze e luoghi di ritrovo particolarmente frequentati in occasione del fine settimana. Complessivamente durante l'operazione sono state identificate più di 150 persone e circa 90 veicoli. Inoltre, grazie all'ausilio dell'Unità Cinofila della Polizia di Stato, nella pineta di Ponente sono stati effettuati tre sequestri di sostanza stupefacente e in particolare 11 grammi di cocaina in polvere, 42 di cocaina divisa in 52 dosi e 25 grammi di hashish divisi in 17 involucri.